Uh che brividi! Chiudiamo le finestre che entra freddo e umido! Sì va bene ma come faccio a cambiare l'aria in casa poi? Non ho detto di sigillare le finestre, ogni tanto bisogna aprirle ovviamente. Soprattutto al mattino e anche alla sera prima di dormire bisognerebbe arieggiare bene la stanza. Ma non è più come in estate con tante ore di aria, il sole che riempie la casa. E infatti stavo cercando un modo per purificare comunque l'aria e l'ho trovato. Anzi ho trovato molto di più. Seguite il video e lo scoprirete anche voi. Ciao amici! Lo sapevate che alcune piante tenute in casa hanno un potere incredibile? Non solo purificano l'aria ma catturano le sostanze inquinanti. Sono delle vere e proprie piante catturaveleni. Vi piace l'idea? Allora mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Grazie a queste piante possiamo davvero purificare l'aria di casa o dell'ufficio, dello studio, dove lavoriamo. Scusa ma casa mia è pulita? Cosa devo purificare? Ma lo sai che in molti casi l'interno della casa o dell'ufficio è più tossico dell'esterno? In casa siamo pieni di inquinamento chimico a causa dei materiali da costruzione, le vernici, l'arredamento, anche i tessuti, per non parlare dei detersivi, dei detergenti e quegli spray vari per gli insetti o per profumare la casa. E pensate, anche i cosmetici e gli indumenti possono inquinare. Pensate, una mia amica è successa una cosa assurda, ha comprato un paio di scarpe in un negozio anche di qualità e come le ha riposte in casa, la casa si è riempita di un odore così forte che le è venuto mal di gola e per la rabbia le ha buttate via. Tutte queste cose emanano particelle chimiche tossiche che si diffondono nell'aria. Sono particelle volatili, inquinanti e nocive per il nostro organismo. Con l'umidità, l'aria condizionata o al contrario il riscaldamento possono provocare dei sintomi che tutti insieme fanno la sindrome da edificio malato. Che brutta cosa. Ad esempio, irritazioni agli occhi, mal di gola, naso bloccato o che cola, asma, difficoltà respiratorie, stanchezza cronica, malessere diffuso. Per fortuna la soluzione è naturale. Prima di tutto bisogna cercare di evitare il contatto con queste sostanze inquinanti e sostituirle il più possibile con sostanze biologiche e atossiche. Puoi affidarsi alla biodepurazione, cioè alla depurazione fatta dalle piante. Loro depurano in modo naturale. Ma attenzione, non piante qualunque. Ci sono 20 piante specifiche per la depurazione dell'interno. Ma tu come le sai queste cose? E dovremmo averne in casa almeno qualcuna. Io mi documento, leggo lì, non si mangia. Non si mangia. Approfondisco. E figuriamoci con l'ignoranza. Guardate questo libro per esempio. Piante che purificano l'aria di due autori francesi, Boisier Asseret e Chaudet. Pubblicato dalla casa editrice Il Punto di Incontro, specializzata in salute naturale, come me e sponsor di questo video. Il libro introduce 20 piante e per ognuna specifica che tipo di veleno cattura. Per esempio, il filo d'endro va bene in soggiorno dove possono esserci mobili con forma aldeide o intrucciolato. La dracena marginata in un ufficio o nella stanza di un fumatore. Il potos va bene in tutta la casa, ma non deve mai mancare nella stanza dove fate bricolage o dove dipingete. Lo spatifillo è perfetto in ufficio o dove si trova molto inquinamento elettromagnetico. E così via. Ogni pianta ha una sua specificità e il libro spiega come coltivarle, dove metterle, come farle stare bene e come proteggerle, perché devono rimanere sane a lungo anche loro. Io mi sono documentata e ho messo le piante nei punti strategici, in casa e in studio. Sapere che sono lì e fanno bene all'ambiente mi fa stare bene. E poi il verde è sempre terapeutico. Ci vuole, no? E lo dice anche la scienza con le sue ricerche sul risanamento dell'aria. E io sono ancora più contenta. Bene amici, se volete leggere questo libro potete ordinarlo direttamente dal sito della casa editrice. E se usate il link che metto in descrizione potete avere uno sconto sul primo acquisto. Come dico sempre, anche risparmiare fa bene alla salute. Condividete anche lo sconto. Per seguire tutte le novità del canale iscrivetevi, attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella così YouTube vi avvisa ogni volta che esce un nuovo video, ogni giorno. E poi sostenete insieme a me questa divulgazione per una comunità sempre più trendy e sana abbonandovi al canale. E seguitemi sui social, Facebook e Instagram. Anche lì la comunità deve crescere, mi raccomando. Cliccate mi piace e diventate miei followers. Noi ci vediamo nel prossimo video, nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Brr che brividi! La scienza sul... Ah forse...